Pomeriggio di paura ma fortunatamente senza gravi conseguenze quello vissuto dai residenti del complesso Palazzo Lellin Vialeusa a Cerignola. Un vasto incendio ha infatti interessato un negozio di biciclette che si trova all'interno del complesso residenziale. Il fumo denso ha avvolto il palazzo e a scopo precauzionale sono state fatte evacuare diverse abitazioni. L'incendio sarebbe scoppiato nel primo pomeriggio e a dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini. I primi ad arrivare sul posto, il complesso residenziale si trova alla periferia nord di Cerignola, sono stati gli agenti di una volante della polizia. Hanno visto fuoriuscire dall'interno del negozio di biciclette fumo nero e denso. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia ed il lavoro di spegnimento delle fiamme è durato diverse ore mentre tutto intorno alla zona dell'incendio si sono andate via via affollando decine di curiosi. Saranno solo i sopralluoghi all'interno del locale dopo che l'incendio verrà completamente domato a chiarire se le fiamme siano di natura accidentale o dolosa.